Ben ritrovati siamo pronti a immergerci oggi nella musica dance anni 90? Beh, proprio quello che faremo qui su Non Solo Suoni in compagnia di Simone J. Ecco che dell'artista infatti vogliamo rispolverare un successo datato 1997. Si intitola Wanna Be Like a Man, un titolo quasi pretenzioso e molto all'avanguardia per quegli anni, a ben vedere. Intanto ricordiamo che lei, Simone J, era stata protagonista proprio dell'estate del 97, del Festival Bar e dunque di quei tormentoni tipici della stagione estiva. Insomma, aveva fatto ballare e molto, moltissimi italiani e non soltanto. Pseudonimo di Simone Jackson Clark, classe 1960, lei è una cantautrice statunitense, soprattutto operativa nell'ambito dance, armbi, indie. Nata quindi negli Stati Uniti, ha però un legame speciale con l'Italia, perché qui si è trasferita nei primi anni 90. Ha iniziato la sua carriera come cantautrice dance nel 93, anno di uscita del singolo Love Is The Key. A produrla era allora la casa discografica di WA Records. Negli anni seguenti ha prestato la sua voce e collaborazione a diversi gruppi dance. Ha cantato in brani musicali di notevole successo internazionale, come per esempio Take Away The Color, rap da Ice MC e con versi scritti da Simone stessa nel 93. E poi ancora Passion and Memories del gruppo italiano Netzwerk nel 1994-95. Poi ha collaborato nell'arco della sua carriera con molti artisti di registrazione famosi. Con il nome di Simone J, torna alla ribalta nel 97, proprio con la super hit Wanna Be Like a Man, appunto la nostra hit di oggi. A produrre il singolo è la Virgin Records e tra gli autori spicca il nome di Talisa. Il brano scala le classifiche di mezza Europa e anche del Sud America. In Italia è salita in vetta alle classifiche il 21 giugno del 97, occupando la posizione numero 11 nella chart dei singoli più venduti di quell'anno. La canzone ha riscosso successo anche oltreoceano, però, e si è piazzata alla posizione numero 27 della Billboard Hot Dance Music. Al fortunato singolo poi è seguita anche Midnight, tali da raggiungere la posizione numero 7 in Italia, e Lou Tang la numero 13, che ha visto Simone J coinvolta anche nella stesura del testo. Nel 98, oltre proprio al successo estivo, Lou Tang spicca verso settembre la collaborazione con il disc jockey e producer DJ Dado, dalla quale è nato, per così dire, il tormentone pop dance Ready or Not, che poi accompagnerà gli ascoltatori per diversi mesi, e oltretutto entrerà anche nella classifica top 10 all'ottavo posto. Nel 99 esce invece Paradise, il singolo riscuote un buon successo, e vede impegnati al remix gli Eiffel 65. Lo stesso anno è anche uscito Good Times. Del 2000 invece è Give Me Love, del 2001 invece è la prevista uscita del singolo Mom and Dead, che poi però uscirà soltanto nel 2003. E ancora, scorrendo la carriera, nel 2008 una nuova, Simone J ha fatto uscire un album intitolato The Way, prodotto da Marco Carmassi, con alcuni tre musicisti più prestigiosi del mondo di quel momento. L'album conteneva 11 tracce R&B che valorizzavano le qualità vocali soul proprio della nostra artista. I testi sono stati scritti tutti da Carmassi e dalla stessa Simone. E al mix ci sono nomi importanti, tra i quali per esempio quello di Chris Trevett, che lo collega a personaggi come Britney Spears e Michael Jackson. L'ultima uscita importante invece risale al 2022, in collaborazione con il famoso producer già citato DJ Dado, quando appunto Simone ha cantato Flying Hire e poi con il DJ Massimo Pepe ha cantato Let Love, tornando alla ribalta con grande consenso del pubblico amante, soprattutto e ovviamente della musica dance. Noi però torniamo proprio al momento d'oro di questo genere e a quella hit che l'ha consacrata nel 1997. Buon ascolto! Buon ascolto!